Ospedale di comunità, Pachino avrà la struttura sanitaria, si valuta altro presidio al Rizza. Pachino avrà il suo ospedale di comunità, deciderà invece la conferenza dei sindaci se collocarne un altro al Rizza di Siracusa, già previsto secondo l'iniziale prospettazione, o nella zona montana. Confermati i due già individuati nel presidio ospedaliero di Lentini e al trigone di Noto. E' quanto emerso nel corso dell'audizione in sesta commissione dell'assessore regionale per la salute Ruggero Razza in ordine alla programmazione regionale dei fondi del PNRR destinati al settore sanitario e sociosanitario. Lo comunica Rossana Cannata, deputata regionale di Fratelli d'Italia, la quale ha partecipato all'audizione dove sono stati illustrati gli schemi definitivi dei progetti territoriali di ogni ASP. L'assessore della salute, spiega la parlamentare, ha dunque confermato che la struttura di contrada Cozzi a Pachino ospiterà il quarto degli ospedali di comunità previste nella provincia dell'Ettusea. Si tratta di un impegno, conclude l'onorevole Cannata, che ho mantenuto in sinergia con l'assessore della salute per garantire cure di prossimità e un'assistenza di rete potenziata e più vicina ai cittadini. Sarà invece rimessa alla valutazione del territorio e dunque alla conferenza dei sindaci la decisione riguardante la collocazione di un altro ospedale di comunità, mantenerlo cioè a Siracusa, come inizialmente deciso dall'assassonato, oppure spostarlo nella zona montana a Palazzolo.